Run like hell, run like the wind Non perdetevi una nuova puntata di 2-4 ruote e passioni motori in onda mercoledì 10 aprile alle 21 su ON TV Web Nostro ospite è Giuseppe Vercelli, psicologo, psicoterapeuta e docente dell'Università di Torino Insieme a lui scopriremo quanto è importante l'aspetto psicologico e la mente in una competizione sportiva, ovviamente legata al mondo dei motori Sono uno psicologo della prestazione che significa che conosco bene i meccanismi che riguardano qualsiasi tipo di performance ovviamente in questa puntata parleremo degli sport motoristici In onda mercoledì 10 aprile alle 21 su ON TV Web